Amici, ci vediamo giovedì prossimo per la tercima puntata di Un Angelo Sforco di Pittura su Radio Blue Point, qui, una cosa straordinaria, continuiamo a parlare di cinema e di televisione, tutte le avventure che ho fatto, parliamo degli sport televisivi, parliamo di questa è la mia terra, una fiction che è stata incinata qui a Civitavecchia, che sono tutte ritorne, una cosa straordinaria, e poi parliamo di Milano-Palermo, il ritorno, con Giannini, con Rombò, ma non è, ma è avvitabile, ma è avvitabile, ma che stai? Ma sto parlando della puntata, sto presentando la puntata prossima. Non vuoi metterti seduto qui, su questa scrivania, eh? E' il direttore, adesso ci licenzi, andiamo via! No dai, ci vediamo, su Radio Blue Point, cancellate tutto, cancellate tutto, vi tagliate! Mi raccomando, cancellate tutto, ci fai licenziate! Punta con, punta con, dai! Via! Via!